Buonasera, anche questa è la serata di dirette di Libri.tv, oggi è 27 luglio 2012, anche questa sera per esigenze tecniche telefoniche. Vorrei commentare con voi un articolo letto sul giornale di oggi di Vittorio Feltri, un articolo di Marcello Zacchè, questo articolo si intitola Condannati allo spread da toghe e garagisti, con sottotitolo certe decisioni dei magistrati distruggono la credibilità del Paese. Ovviamente senza voler tentare sintesi parziali anche per esigenze di tempo, però un pochino a dedurre l'estratto, o meglio il messaggio che Zacchè esprime in questo articolo, anche ben espresso come messaggio nel titolo. Partendo dalle pronunce di alcuni giudici, Zacchè si chiede chi investirebbe in un Paese come l'Italia dove dei giudici si pronunciano nel merito, come nel caso appunto del Consiglio di Stato che ha sospeso per esempio il pedaggio per l'ingresso nell'area centrale di Milano e il caso del GIP di Taranto che ha posto i figili all'Ilva nel caso di un'inchiesta per disastro ambientale e avvenenamento di sostanze alimentari. Zacchè poi cita anche altre sentenze, che vi mando chiaramente al lettore di quest'articolo, ma vorrei soffermarmi sul fatto che l'autore appunto pone tra le sentenze che portrebbero un discredito al Paese intero un provvedimento come quello sull'Ilva che forse tardivamente si oppone alla violazione del diritto alla tutela della salute dei lavoratori. Molti casi di gravissime patologie che hanno colpito i lavoratori dell'Ilva sono stati collegati alle condizioni di lavoro insalubri, per non parlare poi del rispetto del territorio e del diritto alla tutela del territorio che secondo me spetta ogni cittadino, ma direi anche a ogni abitante sul suolo italico. Zacchè dovrebbe chiedersi che credibilità ed affidabilità ha un Paese che attraverso i suoi amministratori consente simili gravissime violazioni di diritti come quello alla salute e alla tutela del territorio, così da dire definire un diritto universale, violazioni perpetrate per decenni che spesso hanno visto come ispiratori potenti lobby dell'industria privata e di Stato. Non credo sia ragionevole puntare il dito contro un giudice chiamato a pronunciarsi per funzione istituzionale da cittadini in queste violazioni che configurano dei reati, su queste violazioni che configurano dei reati, sarebbe molto più opportuno avvitare certa politica che ha consentito questa condotta, la cui esistenza era nota per sapere comune da tempo. Queste vicende non dovrebbero arrivare alla sanzione in extremis del giudice, tenendo conto peraltro che parliamo con tutta la prudenza possibile perché è un intergiudiziario che è in corso, è in atto quindi sarà anche tra l'altro lungo. Comunque queste condotte dovrebbero essere bloccate ben prima di devostare vite umane e territori. Sarebbe poi da chiedere a Zacchè che paese sarebbe quello in cui un giudice chiamato a pronunciarsi su questi fatti facesse finta di nulla, oppure non so, magari Zacchè si auspicherebbe che per non alimentare lo spread, il divario lo spread, un giudice forse dovrebbe insabbiare tutto, non è molto chiaro. Certo è che secondo me l'impresentabilità dell'Italia emerge da una condotta politica e amministrativa di lunga data che ha ammilantato affidabilità per decenni in sedi internazionali su rispetto dei diritti, anche quelli sanciti dalla Costituzione che di fatto molto spesso sono rimasti inapplicati. Davanti a questo il cittadino, ha detto anche lui spesso complice nel non pretendere quanto dovuto in cambio di vantaggi clientelari, il cittadino che si rivolge ad un giudice fa valere semplicemente un suo diritto e un giudice che si pronuncia svolge il suo compito, quello che ha prodotto poi una sentenza importante, come appunto il caso della sentenza Eternit. Si attende peraltro sempre su questo tema una pronuncia in extremis, cioè giudiziaria anche per l'attività dell'Eno invasificata, attività di cui potrete conoscere la gravità inserendo il nome di Maurizio Bolognetti su Google, attività di cui si conosce poco, ma chissà forse essendo l'Eni un'azienda di Stato, certa prudenza mediatica forse è dovuta al timore delle ripercussioni sullo spread. Quindi concludendo vorrei trasmettervi questo mio pensiero, ossia che se c'è veramente una connessione fra queste vicende e lo spread che inchioda l'Italia come paese inaffidabile, ammesso che sia questo un criterio di valutazione sufficientemente esaustivo e direi in caso di dire affidabile, il problema sta nel fatto che certe vicende si verificano e non in quello che un giudice le sanzioni. Volevo comunicarvi oggi con questo spazio di riflessione. Volevo ovviamente, prima di passare all'illustrazione del Parincesto, comunicarvi qualche piccola informazione di servizio. Volevo comunicarvi che Libri.tv oggi sospende l'attività in diretta delle dirette del venerdì sera, che riprenderanno a fine estate, presumibilmente verso la metà di settembre. Nel frattempo tutti quanti noi continueremo a produrre compatibilmente con le varie opportunità che si presentano dei video per cercare di informare, li riposteremo sul sito e quindi li avrete disponibili appena possibile ovviamente. Passerei quindi all'illustrazione del Parincesto di questa sera, dopo la virgola del direttore, alla 21.15, lo spazio e certi diritti, il consueto spazio curato da Riccardo Cristiano, che porta appunto alla conoscenza del pubblico di Libri.tv, un'opinione che proviene dal Movimento 5 Stelle di Cosenza. Energia, connettività, acqua, trasporti, ambiente, coppie di fatto e quindi Riccardo Cristiano e Yuri Guayana interpellano degli esponenti del Movimento 5 Stelle di Cosenza. Alla 21.40 voci transnazionali, questo è un appuntamento molto importante, perché avremo un aggiornamento dalla siglia, parola a Shadi Amadi, una diretta con il giornalista esponente della comunità siriana sulla questione siriana, che è una situazione devastante, che di giorno in giorno si aggrava sempre di più nella sua crudeltà nei confronti appunto del regime, nei confronti della popolazione civile. Dalle 21.40 fino alle 22.10, alle 22.10 avremo lo spazio a tavola con la finanza, spazio curato da Giancarlo Calciolari, intervista al professor Guido Crapanzano, esperto di numismatica economia e finanza. Questo è uno spazio curato da Giancarlo Calciolari, il professor Guido Crapanzano l'abbiamo già avuto su Libri.tv e ci parla appunto di logica del collasso. Alla 22.45 prevista la chiusura delle trasmissioni. Io voglio ricordarvi ovviamente che Libri.tv è un'associazione che si autosostiene, quindi sono ovviamente gradite le iscrizioni e per fare questo e tutte le informazioni stanno sul sito. Ringrazio ovviamente la regia che verrà tenuta, ringrazio Donato Volpicella per la regia che verrà tenuta questa sera. Ringrazio tutti voi che ci seguite, per l'appuntamento in diretta vi do appuntamento a settembre, grazie ancora e buona visione dei programmi di Libri.tv. Buonasera.